Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Lear Replicant Niente, sembra che non abbia visto Da completo cercatone Questa scala che vi porta su Perché ci volete fare, purtroppo La vecchiaia colpisce anche me E' anche forte E quindi andiamo di sopra, vediamo un po' dove ci porta E diamo un pochino Eh grazie insomma Oh ma qui c'è una cassa C'era una cassa Che fa il giro quindi Ok Oh mi ha fatto prendere un colpo Mi stavo guardando io Chi è che mi spara da lontano Non si fa così eh Non è educato Ok Sembra che abbia perso 8000 miliardi di FPS Lo so perché Jeb si usa con la magia Potenza magica più 2% Beh io questa qui la userei Voi cosa dite Ehm Andiamo un po' Ho la speciata In cantesimi Ehm Questo Pa Cosa faceva Sapete che non ho mica capito benissimo Come funzionano queste cose Allora aspettate un attimo eh Allora Questo qui E non mi dici un cazzo Potenza magica Eccolo qui Jeb potenza magica Questo invece Costo PM Meno Ok E questo mi va bene Così a me Ecco adesso Adesso ragioniamo Costo magia Potenza magica più 2 Questo PM Adesso mi piace di più Quindi qua Adesso discorso Potenza magica E corto PM Meno Adesso comincio a capirci Dopo Un bel po' di tempo Va bene dai Allora dovremmo Andar di là Penso Perché lì è la casetta Che devo andare Però volevo anche Un po' esplorare Se c'è Forse qualcosa Qui non c'è niente Qua non c'è nulla Ehm Che vi devo dire Andiamo Capisco perché Abbia perso Sono sotto i 60 È incredibile Adesso è successo Adesso gli avvio il PC Perché Non è possibile Bloccato Hai sbloccato Tutorial Collisioni Incantesimi Devevo Fare un'improvvisione Per sbloccarlo Sì ma non si può andare A questa velocità È veramente un schifo Adesso Vedo di avviare C'è qualcosa Che mi ha Un attimo Incasinato Il tutto Vai Mori Grazie Perfetto Non esiste Come una 3090 Si Interessante Allora Niente Vado A rinviare Il PC Sì Vediamo Fra poco E niente Non so perché Mi è sceso Tantissimo Ho provato A modificare Anche il dettaglio E metterlo Al minimo Ma non è Servito A nulla Continua A Darmi problemi Sia Mettendolo al minimo Che mettendolo al massimo Anche in modalità Postazioni Ho provato Tutto quanto Ma Non so perché Mi sia Si soppico Così tanto È veramente Giocabile E niente La colpa Non è del PC Anche perché Ho provato A mettere Importazioni minime E poi comunque Una 390 Fino a prima È andato benissimo Con la proposta Del gioco Ce la dobbiamo Soltare così Per il momento Finché non siamo Da questa zona Speriamo che si riprenda Perché purtroppo Lo gioco il day one E si sa che Alla day one Ha un sacco Di provare Di giochi Tutti quanti Si è console Che è PC Quindi Piazienza Ci facciamo Questa zona così Ok Cerchiamo di Di farcelo Di farcelo Piacere È orrendo Giocare così Su PC Allora Vediamo un po' Quale sarà La direzione Da prendere Mamma mia Con questa Cosa Ovviamente Orrendo giocare così Allora La casa Quale sarà In che senso Sono maledetto Allora In teoria Devo andare di qua È là Che devo andare Senza teoria Proprio pratica Poi non è che Non so come salire Allora La scala Ovviamente Se non le vedo Le scale I denti Ok Queste qua Vai Già E quindi Devo andare via Tutto qua Hello Sir I have a pack It's broken Eh Purtroppo Mi sa che Non vorrei che Unico modo Per poter accedere Al capovillaggio Sia proprio Quel pacco Ma Ditemi voi Come posso Arrivarci Senza Subire danno È un bel problema Ci posso provare Senza schivare È dura Perché Assolutamente Quando Su questo Su questo Come si chiama Su questo ponte Ci sono I boss I mob Quindi non posso Evitarli Fare tutto con la magia È un bel problema Vabbè Adesso Vediamo come fare Allora Devo scendere Devo scendere di qua Ovviamente E ritornare All'unica cosa Che posso fare Perché non vedo Altra soluzione Se mi fa andare Perché prima Mi faceva andare Vediamo un po' Adesso corro Se mi fa correre A 48 fps Sarà dura Andavo a 130 Prima Adesso Farà da 40 Vabbè Vediamo un po' Se ci fa uscire Andare a prendere il pacco E ritornare qua Sarà dura Perché Una volta che Entriamo Usiamo da un'area Si rigenera tutti Non è facile Non combattere Usando il primorio Non è così semplice Qua Il tipo ci sarà Adesso Vediamo Effettivamente Qualcuno c'è Vediamo cos'è Ok Una kirlanda Già Oh Sono un po' 780 adesso Ma Salve signorina È un po' Incazzosa lei Aspetta È una kirlanda Oh Cazzarola Beh almeno Siamo per 780 Quindi è proprio il gioco Non ci si fa niente Oh Aspetta un attico Va Devo capire come Come affrontate Dammi un attico Magari se è Loki Grazie Perché Ho la sensazione Che Sia più forte Di quello che sembri Ok Signorina Mi dispiace tanto Lei è caduta Si è fatta malo È sempre L'inquadratura Che succede Sei un po' Incassata Non mi dia di stomaco Mi raccomando Però Un vestitino Molto coprente Diciamo Accidenti E sia nella merda Insomma Ok Locke ovviamente Me l'ha perso Non ho potuto leggere Però ho capito Vagamente Quello che hanno detto Sei molto puttente Lo sai Ok Vediamo fin quanto Riesco a registrare così Perché ho visto Che al corpo a corpo È Un po' Problema Ok Oh salve Lei è molto bello Sa Che frigo la signorina Mi scusi Niente di personalo Però Insomma Questa come l'ha scavito Oh come on Sei serioso? Sto prendendo un colpo Ok Hai un bel problema Sto prendendo un colpo Si 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 Appendendo un colpo Mi è fatto perché mal Sto prendendo un colpo Eccolo qui Vai Scarica Ok Lo sta indietro Già Forse magari Fare così So le potete Che cosa dice Sì andando su questi sarebbe utile ok 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 se mi dai un secondi possiamo far tutti quanti qualcosa si si dai dai muori 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 vediamo quanto riusciamo a farcela non sta andando malissimo sicuramente vai sta schivando da merda certo che se il tempismo fosse il mio nome io sarei il coglione porca miserica ok non è che ce la stiamo facendo la potevo giocare meglio sicuramente ok è andata vai perfetto holà è andata è andata e a e e e e e e e e O Cazzo! Ho detto che ti resti da fuori! Eh, l'avevamo già debollita noi, eh. Cercate. Signorina è svenuta? Ah. I simboli sono disperati. È lei umana? This one has been possessed by a shade. She exists as neither fully human nor other. I feel bad for treating her like one of those things. We have to help her. Ok. Hai ottenuto un verso sigillato. Hai ottenuto la magia Mano Oscura. Mano Oscura colpisce i nemici con un potente braccio di energia magica. Carica attacco per aumentare la dimensione del braccio. Occia boia. Per il santo. Salve signorina. Non ha detto ciao. Si sveglia. Si è alzata. That's right. I'm sorry we attacked you. We thought you were a shade. No, you're half right. Now get the hell out of here. Now see here. We made our apologies and came to your aid. The least you can do is grace us with your name. Ma per forza Se voglio rimanere No E niente C'è niente da fare Ah ma allora Ma è proprio Una tipa strana Carina Mezza nuda Che carina Allora E quindi adesso Siamo tornati a meno 80 fps Non è come prima però Possiamo Tornare a casa A prendere sto cazzo di pacco Ok 4 febbraio Oh siamo finalmente a 100 Vai a parlare con Popola Popola Controlla come sta Iona Ok Devo scegliere Per forza Vai Mi va bene Però io volevo il pacco E poi dovevo ammazzare quel coso Però magari adesso Diciamo magari adesso Sembrano l'occhi Siamo Oh porca di quella vacca Ok Non ci ha toccati Andiamo a vedere come possiamo fare con sto coso Magari così Dovevamo fare per queste Quello che devo dire Ci riusciamo piano piano Quanto dobbiamo farlo Tutto è una questione di schivo 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 Perché se ci perde ci fa un culo 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 Eccoci qua Di piano piano Ce la facciamo Ci vuole un po' di pazienza Poi ci riusciamo Io avrei schivato Allora lui mi ha risposto Col cazzo Ok Siamo a posto Guarda sta andando già un po' meglio Allontaniamoci un pelo Va perché Sennò questo Cominciamo a spugare in tempo Ok Ci l'ho fatta Eh siamo a metà nel giro Dai Cazzo va Dove è andato Ah Si è fatto malo Eh vabbè Ha dato una cragnata da panico Eh forse questa è la strategia giusta Qua di dare una cragnata Cioè adesso è andato lì di Almi di che è caduto Ah no è lì Ovviamente l'occhio è andato a puttane Però se riusciamo a Farlo venire qua Oplà Mi ha fatto malo No no che non mi ha preso l'occhio Basta Questi cazzo di Vabbè siamo a metà Dai Solo questione di tempo Alla fine Voglio vedere No Non ce l'ho fatta Eh aspettiamo Riverà più un po' Siamo a metà Ah tanto dobbiamo farla Non è che Posso farci qualcosa Eh ma questo Si è fatto malo Mi dispiace Ok un po' Di salvo andate Devi andate Vedo cazzo Si è fatto male di nuovo Ma poverino Quanto mi dispiace Ok vedete È già molto meglio Vedo un cazzo Non vedo Ah si vede che qua Lui si bug Qua non è che tanto Vedete Qua giù Vai vai Ormai è nostro Perfettico Fatta Oddio E questa è andata Bene Almeno così L'abbiamo fatta Questa è una seconda Questa fatta Allora il villaggio Ce l'ha indicato Perfetto Vediamo pure Almeno così Siamo a cavallo Dai Ok Oh scusate Allora io devo cambiare Arba Volevo dire qua No aspettate Oddio Qua Magia abilità Lancia oscura Qua Qua In questo qua Perché c'è Mano oscura Sì Mano oscura Che dovrebbe essere meglio In teoria Proviamo Oh cazzo Ho fatto Caccare Ma Ecco L'abbiamo provata Subito È arrivato Un cazzato Da panico Vediamo un po' C'è più grosso È più Oh si fa malo Quasi tutta la vita Però dai Devo capire Se è meglio O peggio Però insomma Vediamo un po' Vediamo un po' La peppa Effettivamente Il one shot Questi piccolini Ma non è mai Adesso Vediamo l'abitudine Adesso vado di corsa Devo andare all'illaggio Aia Beh, devo diventare più forte Non so Però Se effettivamente Non faccio combattimenti Si fa fatica A diventare forte Cosa dite? Deve essere qualcosa Di sigillato Poi vedremo Ma dove corre Questa cosa Oh cavoli Perfetto Ma è stato niente Vero? Dove corrono? Perfetto Stavo dicendo Dobbiamo andare di qua Mi sto guardando la minimappa Perché se no Non riesco a capire Di qua Ok Perfettico Villaggio Sto arrivando Dopo devo prendere Assolutamente Il pacco del tipo Che se no È un casino Allora Devo andare Da popola E devo andare Dal tipo Che E' moruto Scusate Mi ha detto Averso la saliva Perfetto Perfetto Allora Villaggio La quest La quest Che ce l'avevo data Adesso vado a ricordare Allora Guardiamo quest No Opzioni Era qui Vediamo un po' Oggetti Missioni Missioni Completate No Incomplete Caccia cinghiale Nel quartiere del mercato Un anziano seduto Vicino all'emporio Ok Un anziano Seduto vicino all'emporio L'emporio Posso capire Qual è l'emporio Per me Nel porio E' quello Dell'inizio E' questo E' lui Ok Oh Interessante Allora Domare cinghiale Sali Ingrotta Cinghiale Sali Io scendi Con B Muoviti Accelera con RT Scivola Ti ne è premuto R-T Muovi A destra A sinistra Mentre acceleri Però interessante Hai completato la missione Caccia cinghialo Beh interessante Questa cosa Abbiamo sbloccato Una nuova cosetta Allora Adesso devo andare Da Popola Che Se non sbaglio Lei è alla biblioteca Quindi devo andare Verso appunto Save Qua Esatto Dobbiamo andare Nella biblioteca A sentire un po' Come sta Cosa la dice Questa è casa nostra Casa nostra Biblioteca qua Ok Dobbiamo andare Da Popola A vedere cosa si dice Ok Ragazzi Però è meglio che ci fermiamo qua Se non faccio come solito Un video troppo lungo Io vi invito A lasciare un like Un commento Se mi piace Asseglie Di farmi sapere Cosa ne pensate Poi anche se mi Dessere un'ottosiva Ciao Ciao Ciao